Per questo operatore saranno necessarie 50 uccisioni tramite rilevati da serie di punti o potenziamenti da campo in multigene In pratica potrete farle con l'aerospia e con il microfono da campo che potrete aggiungere dall'equipaggiamento E lo troverete nella sezione potenziamenti da campo Adesso raga io come modalità vi consiglio ovviamente dominio perché è quella migliore nel quale fare tutte le sfide Perché avete un buono spawn degli avversari, un buono spawn voi e potrete dividervi la mappa in maniera migliore Per questo breve video raga è tutto, come sempre ci salutiamo Vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un bel like, di passare da instagram se ancora non l'avete fatto Bella Ciao 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 Ciao